Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts Built by Sleep Final Mix. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il vero boss finale, Terranort, con acqua. E dopo aver sconfitto suddetto boss, abbiamo ottenuto un altro file di salvataggio da caricare. Quindi vi invito a scrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E questo file di salvataggio come si sblocca? Non sconfiggendo solamente questo vero boss finale, ma avendo tutti i diari. Quindi dovete avere tutti i diari e avere finito tutte le storie per sbloccare questa cosa. Però se non finite tutte e tre le storie, non sbloccate niente. Quindi, se, alla fine. Allora, andiamo subito e carichiamo Secret Episode. Darkness rules your heart. It gives me control. Muscle and sinew that once obeyed you, now rebels against you. How you can remain here at all confounds the mind. It's still my heart. You think you can just come in and take over? I'm not gonna sit by and let that happen. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed my mind forever. Wrong. You're gonna get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph of the mind? You'll find out soon enough. Oh, so that's how it is, is it? Someone else has set foot in your heart. Eragus, his lifeblocks. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do rest control of my heart from me. Even if you cast me into the deepest, darkest abyss. You'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. Trust me, I made certain of that. Hey, Mr. Master. Oh, come on, you don't even know your pal? Please, tell me the amnesia was just a sick joke. Boy, this is some cliché. Hey, you're not... Terra. Just gotta check. Haha, as if. Well, don't sweat it. I got your back. I got your back. Hm? Un'altra cosa? Chi sei? Hm? Why, hello. It's not often I get visitors. Please, call me Aqua. Why are you sitting here all alone in the realm of darkness? How did you end up here? Well, I can tell you this is my second time on these shores. But unfortunately, much like the first, I do not remember who I am or whence I came. Everything was washed away in whatever currents carried me here. That's too bad. I know I've been here a long time, wandering through the endless hours, unable to escape. You wish to return to your own world? It's my friends. I promise I'd be there for them. You're friends. Somewhere in the scraps of memory I have left. You remind me of a boy I once knew. He is very much like you. True to his friends and kind, This boy travels to many worlds and fights to keep the light safe. Keep the light safe? I've been away too long. Did something happen out there? Are the worlds in danger? Sad to say, They nearly fell to darkness more than once. But at every turn, That boy arrived with key blade in hand to save the day. Huh? Wait a sec. Is his name Tara or Ven? Neither of those, I'm afraid. Should have known. How long has it been since I met him? At least a year now, perhaps more. Back then, my heart was clouded with vengeance. I did terrible things, both to him and his friends. I brought unhappiness to more lives than one. I felt something must be done. Was that why? A means of clearing my conscience, Or perhaps out of a sort of scholarly instinct. While the boy slept his long sleep, I hid the results of my research inside him, Transplanting the data to where it might best serve a purpose. In fact, I would like to believe, Maybe he can set things right. A boy like him who touches many hearts, He could open the right door, And save all those people whose lives I managed to ruin. So many are still waiting for their new beginning. Their birth by sleep. Even me. And even you. What's this boy's name? His name is... 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 Sara 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 Sora 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 Kairi Sora 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 Cosa sta succedendo? Ed eccoci qui, nel reame dell'oscurità. Allora, questo posto è molto importante. Perché? Ora stiamo facendo letteralmente l'esplorazione del reame dell'oscurità e stiamo vivendo una cosa molto particolare. Comunque, il filmato che avete visto prima è il filmato che non potevo farvi vedere nello scorso episodio. E quindi, comunque, notate, sono a livello 50. Ho dovuto allenarmi per una cosa che vedrete, però... Allora, tutela del maestro ed emblema di luce. Vabbè, emblema di luce si è visto nello scorso episodio, però... Il Keyblade. Tutore del maestro. Ora, non possiamo cambiare Keyblade. Non possiamo farlo poiché Aqua ha perso il suo Keyblade. E adesso gli rimane solo Tutore del maestro. Un Keyblade di proprietà del maestro Eracus. Ha statistiche incredibilmente alte. Infatti, questo è il Keyblade più OP del gioco. Non c'è Keyblade più potente di questo. È devastante. Fa colpi critici. Questo coso spacca i pianeti. Ed è veramente potente, ripeto. È anche bello. Comunque, a parte questo, ora devo rifare i comandi. Poiché questi comandi sono i comandi con cui ho risconfitto il boss finale. In che senso? Ho dovuto allenarmi fino al livello 50. Nel mio file normale. Quindi, nel file prima di aver sconfitto il boss finale. Poiché, adesso faccio veloce. Perché davvero siamo già a un bel po' di minuti. Un attimo, facciamo che prendo una zona minata. Poi, Magnetega. Poi mettiamo, tanto per conflagrazione. E sì, ho creato 3 Mega Flare. Adesso ho ben 4 Mega Flare per farmare esperienze. Ve lo assicuro, ci ho messo un bel po'. Comunque, un altro coso, direi un Tandaga. Tanto per... Tandaga, perfetto. Ok, va bene così. Allora, cosa ho voluto ottenere? Io ho ottenuto Bagliore in Fiore. Uno dei più potenti comandi di tiro. Spara proiettili di luce che viaggiano pericolosamente in ogni direzione. Questo comando di tiro si ottiene finendo. Signori dell'arena. E mio Dio. È l'attacco... Ora vi dico subito. È l'ultima cannon... Ultima cannon... Insomma, ultima cannon di terra. E Mega Vortex, dovrebbe chiamarsi... O Multi Vortex, di Ventus. Finendo, infatti, ripeto, Signori dell'arena, si ottiene questo attacco. Questo comando di tiro, sia per Ventus che per acqua, che per terra. Il loro attacco finale, praticamente. Il loro vero comando di tiro. E questo coso fa male. Molto male. Ora... Niente. Andiamo avanti perché siamo già a 20 minuti. Questo posto è lungo. Molto lungo. Eh, no. Ho sbagliato. Allora. Qui c'è il punto di salvataggio, se volete. E... Vediamo un attimino se l'ho tolto con tapassi ESP. Ed esperienza 0 lo rimetto perché... Se... Vabbè. Ed ecco qui, gli Heartless. Questa è la prima volta che acqua vede degli Heartless. E chissà cosa... Cosa sono questi cosi, eh? Chissà cosa fanno. Allora. Vai. E comunque, come vedete, fanno abbastanza danno questi cosi. Ok. Ok. E adesso... Questi cosi danno esperienza, come avete visto. Ho guadagnato... Mille punti esperienza. Senza tanta difficoltà, alla fine. Ora. Eh... Sì, lo so, mi sto ripetendo. Di là si va avanti. Ma qui... C'è roba. E se mi ricordo... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto scrigni ci sono ancora da prendere. E poi bastava che vedevo il totale, ma vabbè. Allora. Questo coso vi respinge. Ma non vi fa danno. E quindi... Se ci respinge... Esatto. Allora. Perfetto. Benissimo. Allora, prendiamo il primo scrigno. Che contiene lettera pallone. Ora, in questo mondo non ci saranno mai, e ripeto mai, negozi. Qui, infatti, non si possono avere negozi. È una cosa davvero brutta. Molto brutta. Allora. Che è successo? Ok, niente. Allora, di qua non c'è niente. Possiamo proseguire. E ora... Esatto, lo sapevo che qua c'era uno scrigno. Cristallo Chaos. Vi danno abbastanza roba buona, eh. Molto buona. Allora. Continuiamo a proseguire. Comunque. Vi volevo parlare dell'arena. Del... Un attimo, eh. Allora, vai. Vieni qua. Prima sconfiggo loro e poi ve ne parlo. Perché è molto importante quello che voglio dirvi. Allora. Io sono, eh, parametri, a livello arena 28. E ve l'assicuro. Il livello dell'arena. Il, il, eh, lo scontro finale. Contro, eh, come si chiama? Eh, non mi ricordo ora il nome, però mi sembra prigioniero d'acciaio. Eh, ora mi sfugge, ripeto, il nome. Ma è davvero, davvero forte. Questo boss, eh, posso andare giù, vero? Sì, perché non c'è altro modo per tornare indietro, poi. Allora. Un attimo. Blackout. Chissà perché blackout. Eh, dicevo, questo boss è molto forte. Poiché riesce a controllare l'arena e ve la fa andare contro. Ovvero, eh, spezza i pezzi dell'arena. E ve li scaglia contro. È molto forte come boss e quello che ho detto può sembrare insensato. Ma ve l'assicuro. È fortissimo questo boss. È uno dei boss dell'arena, momentanei, più forti del gioco. Se non battete lui... Non avete alcuna speranza contro i boss segreti veri e propri. Quindi veramente, è forte. E adesso Dark Ball. E comunque se notate... Questi Heartless hanno qualcosa di particolare e di speciale. Sono tutti Heartless puro sangue. E cosa vuol dire? La Dark Ball. Quando viene sconfitta, non rilascia cuore. Compreso il Neo Shadow e lo Shadow. Chissà perché, eh, chissà perché. Ora, tanto per... Di qua si può salire? Esatto. E siamo... Ok, siamo nel bivio. Ora qua c'era uno scrigno nascosto. Graviga Zero. Questa cosa è buono. Allora, vai. Comunque. Ripeto. Quel boss è molto difficile. Molto difficile, ripeto. Se non cercate di andare... Dicevo. Se non cercate di essere... Al livello 50... Ve l'assicuro che vi demolisce. E con il livello 50... E con Esperienza Zero, ovviamente. Ce la fate senza problemi. Ed è davvero... Ci ho messo tipo 20 minuti per batterlo. Solamente quel boss, eh. Ed ero al 50, ripeto. Con Esperienza Zero. Ora, lì c'è l'inizio. Siamo tornati al punto di partenza. Allora. Ripeto e ricordo. Qui c'è uno scrigno nascosto. Adesso andiamo avanti. E comunque. Ora ve lo posso far vedere. E cosa ho ottenuto di nuovo? Mi sa, Graviga Zero? E Blackout? Esatto. Allora. Ecco a voi. Schivata fuoco. Tieni inclinata la levetta sinistra per rotolare avvolto dalle fiamme. Premi quadrato per schivare gli attacchi nemici. Infliggi danni al contatto. Eh, perché non... Attivati, grazie. Allora. Questa schivata... È buona. Che è successo al piede di acqua? Vabbè. Eh, ripeto. Questa schivata è buona. Poiché, continuando a danneggiare i nemici, andrete in lanciafuoco. Eh, cerco di farvelo vedere ora. E andate poi in Carica Lama. Perfetto, grazie. Unico problema... Di questa schivata. Non ha frame di invincibilità. E voi sapete tutti che acqua è una spammer di frame di invincibilità. Quindi, se volete vivere, non usate questo attacco. Se non siete sicuri di essere dei pro. Allora. Torniamo su. E adesso, ricordo che per andare lassù, là sopra, dovete fare il giro contrario. E adesso... Ecco a voi una mini boss fight. Allora, vai. Allora, vai. Di nuovo. E... Combo. Allora, vai ancora. Allora. Ho buggato la cutscene. Vabbè. Comunque, questo coso è importante per proseguire. O anche opzionale. Capirete poi perché. Adesso, andiamo su. E rieccoci qua. Esatto, non è tanto opzionale andare dall'altra parte. Però potete schippare tutto, praticamente. Allora. Forza. Comunque. Alla fine, niente. Cosa ho fatto? A parte l'arena e basta. Ho guadagnato level up, sconfiggendo nemici. E... Ve l'assicuro. Se volete platinare... Tutto. E ripeto, tutto. Birp by Sleep. State attenti. Perché non avrete tanta voglia di vivere dopo. Poiché per... Fare level up con acqua, fino a livello 50. Ci ho messo una cosa tipo... 5 ore. Una cosa del genere. Avendo comunque anche topolino. Perché ho usato il trick. Uso topolino. Mi infliggono danni. Vado a vita critica. E poi... Li distruggo. Si può fare questa cosa per avere il quadruplo dell'esperienza. Però non è tanto vantaggioso. Ve l'assicuro. Non è quasi per niente vantaggioso. Allora. Se mi ricordo là sopra. Non ci si può arrivare. Esatto. Allora. Niente. Proseguiamo. Ora. Questo coso, ripeto. È opzionale come non opzionale. In che senso? Potete usare furia per arrivare fin qua. Però ve lo consiglio. Non usate furia. Ora. Quel coso lassù. Non mi ricordo come ci si arriva. Perché ci si deve arrivare per ottenere tutti gli scrigni. E adesso? Ok. Vai. Ok. E comunque tranquilli. Vi farò vedere Bagliore in Fiore. È uno degli attacchi finali che io preferisco più di tutti. Io adoro Bagliore in Fiore. Lo adoro. Allora vai. Per favore. Allora. Primo sconfitto. E adesso. Andiamo sull'altro. Lo so. Mi sto ripetendo. Ma è perché. Non ho tanta roba da dirvi. Visto che quello che volevo dirvi. Era riguardo solamente all'arena. Allora. Ok. Ricordo poi che questi cosi. Per favore. Tutti i nemici di questo gioco. Di Birth by Sleep in generale. Sono deboli all'elemento tuono. Quindi davvero. Qui demolite. Se avete tanti thunder. Allora. Saliamo. E comunque sì. Se mi ricordo è opzionale solamente questa parte. La parte. Questa qua. La seconda parte che io ho distrutto. Se mi ricordo. No. Un attimo. Esatto. Vabbè. Era possibile arrivarci. Ora. Tanto per. Usiamo anche l'altra parte. Comunque ripeto. Solamente questa parte. Questa. Dove ho usato doppio volteggio e scatto aereo. È. Obbligatorio avere. L'altro ripeto è opzionale. Da queste parti. Se mi ricordo. C'era uno scrigno nascosto. Vero. O no. Esatto. Era là. Allora. Andiamo qui. Gemma segreta. Allora. Questo. È una cosa. Buona. Un prodotto di sintesi molto prezioso. Caricalo. Per ottimizzare i comandi. O per attivare varie abilità. Cosa fa questo coso. Allora. Ve lo farò vedere perché. Non potete trasmetterlo. Nel file vostro. E. Questo coso poi. Era la ricompensa per aver ottenuto. Tutti. E ripeto. Tutti. I. Tutte le figurine. E. E. Averle messe per ottenere un totale. Di 140 punti. Praticamente era al posto di. Scusate. Era al posto di ritmo mixer. Nella versione normale di gioco. Nella versione per playstation portable. E. Provo a farvelo vedere. Cosa ho da caricare. Cosa ho da caricare. Allora. E. Blitz ardente con. Furia blitz rivincita. Assolutamente no. Scintilla con. Anzi. Non scintilla perché può essermi utile. Fissita con. Fissita e fira fa scintilla. Ok. Colpo fissita. Facciamo questo. Con. Gemma segreta. Vi da. Una delle abilità. Che può avere questo comando. Il comando finale. Ma soprattutto. Ve lo spara al massimo. E piccola cosa negativa. Non si potrà più ottenere questa gemma. Quindi se l'avete sprecata come me. Purtroppo. Bravi ragazzi. Allora. Andiamo avanti. Forza. Che siamo già un bel po'. E comunque. Ripeto. Notate quanta esperienza ho ottenuto finora. Ho ottenuto tipo 5000 di esperienza. Se mi ricordo. E adesso. Questa. E' l'ultima area del gioco. E' l'ultima area del gioco. Prima di farla però. Buttatevi di sotto. Perché? Questo posto. E' l'ultima area del gioco. Dalla mappa dovreste vederlo. Che posto è. E' la zona precedente. trascendenza. Questo è un comando buono. Molto buono. Allora. Crea uno spazio antigravitazionale. Che risucchia i nemici. E li lancia. Da una parte all'altra. Infliggendogli danno. Infliggendo danno. Allora. Questo attacco. Se mi ricordo. Può essere ottenuto. Anche nella storia normale. E guardate quanto ci mette a caricare. Quanto. Quanto carica Tandaga. Ma. E' un comando doppio. Con due slot. E' tipo. E' tipo. E' tagliavento. Per chi ha capito. Anzi. Meglio. E' turbolenza. Diventus. E' turbolenza. No. E' colpo tornado. E' tipo colpo tornado. Solo che fa molti danni. Questo coso. Ripeto che. Tutti i comandi. Di gravità zero. Sono buoni. Perché fanno abbastanza danni. E niente. Fanno abbastanza danni. Allora vai. Ora dobbiamo tornare su. Direi che posso tagliare. Ma si. Taglio dai. Ed eccoci qui. Allora. A parte questo. Di essere qua. Ritornati. Mi mancano. Due scrigni. E chissà dove sono. Questi due scrigni. Chissà dove sono. Comunque. Questi affari. Contengano. Nemici. E comunque. Piccola cosa. Questo coso. E' totalmente opzionale. Dovrebbe essere opzionale. Se mi ricordo. Perché quella bolla laggiù. E' schippabile. In una maniera che ora vi spiegherò. Però non adesso. Cioè che ora vi spiegherò. Non adesso. Vabbè. Non vi spiegherò ora. E comunque si. Più che distruggete questi cosi. Più quella sfera si illumina di luce. Ora. Voglio andare dopo dagli scrigni. Prima distruggere questi cosi. E comunque. Se distruggete questi cosi. E uscite. Se mi ricordo. Se mi ricordo bene. Dovrebbe resettarsi tutto. Quindi non conviene tanto. Uscire per errore. Allora. Mamma mia. Stavo per cadere. Allora. Qui c'è roba? Assolutamente no. Voglio lasciare quella in mezzo per ultima. Quella lì per ultima. Dicevo. Allora. Intanto prendo gli scrigni. Tanto per. Lo so. Mi sto ripetendo. Megalizir. Sì. Vi danno un Megalizir. Così a caso. Però ripeto. Questo file. Potete. Farmare. Farmare? Sì. Fuori dal salvataggio. In che senso? Voi potete prendere. Andare in un file principale. Intanto firaga tripla. Nel file dove avete sconfitto il boss finale. Non il vero boss finale. Il boss finale. Sconfiggerlo. Sconfiggerlo. Avere un file di salvataggio. Per il vero boss finale. Poi sconfiggere il boss finale. Il vero. E venire qua. E. Se andate nel primo file dove c'era il boss finale. Farmate esperienza. Poi risconfiggerete il boss finale. Affrontate poi il vero boss finale. Sarete qui al livello. Che avete. Normalmente. Quindi è così. Che io ho fatto. Per dirvi. Alla fine. Allora. Tranquilli. Tranquilli. Vi farò vedere. Bagliore in fiore. Allora. Attenti che adesso. C'è una mini boss fight. E state attenti perché si può perdere molto facilmente. Allora. Magnetega vi serve. Però io metterò anche. Mega flare. Zona minata. È utile. E tanto per. Metterò cosa. Un tandaga tanto per. Ok. Ora però. Per schippare questa bolla. Come si fa? Bisogna andare in questo punto. Usare doppio volteggio. E da qui. Usare furia. E sarà possibile proseguire. Andando direttamente. Nell'area successiva. E ora. Andiamo. Ha caricato. Ok. Ed ecco a voi. Una boss fight. Che mamma mia. Quanto rompe. Aio. Ok. Mamma mia. Ok. Impatto magnetico. Guardate quanta roba si ottiene. Ohioi. Vi ripeto. Questa boss fight è difficile. Guardate qua quante volte mi stanno demolendo. Ok. Ehm. Vai. Ehm. 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 Per ottenere questo punto di salvataggio Bisogna solamente sconfiggere tutti questi Shadow E tutti questi Neo Shadow Neo Shadow e Shadow Ora Il prossimo scenario Mamma mia Allora consiglio Preparatevi Benissimo Ma veramente bene Mettetevi pure Dei Mega Elisir Perché Davvero il prossimo scenario Oh mamma E comunque notate quanto Ha preso trascendenza Di punti 240 PC Mamma mia Questi cosi guadagnano esperienza qui che Wow Allora No assolutamente no Dov'è Allora una zona minata mi serve Però mi serve anche Un doppio energia Per dirvi Quanto è difficile La prossima area Allora Ho solamente due slot Direi che Zora minata lo posso togliere Metto Cosa metto Blitz barriera Perché può essere utile Poi Tandaga E tanto per Io volevo mettere Treo limite Come dire Ma rischiare di perdere Assolutamente no Cosa metto Finaga tripla Tempi congiunti Non conviene Blitz ardente E blitz tonante Almeno sono pari Di attacco Cioè ho tutti Blitz Nel caso Allora Non abbiate Ve l'assicuro Per questo Che sta per accadere Non abbiate Autoscatto O transfert Non abbiate Nessuno dei due Ok Salviamo Qua Aspettiamo che i comandi Si carichino Perché io non entro In quello scenario Senza i comandi E carichi Ok Andiamo Ed ecco a voi Un boss segreto Che tanto segreto Non è Allora Perfetto Vieni fuori Ed ecco Occhi rossi O abitante delle tenebre O come vi pare Questo coso Ha tanti nomi Allora State attenti Perché questo coso Fa male Ripeto Anche se sono al 50 Guardate che attacchi ha Ok Ovviamente abbiate attacchi Di elemento O luce O di elemento tuono Ok Ok No Questo attacco Fa abbastanza male Poiché mi aspira E mi fa male Allora No Mi fai usare Il mio attacco speciale Accidenti Guardate quanto si muove E avete visto No Questo attacco fa malissimo Avete visto Quanto danno gli ho fatto E non era Il massimo Della potenza Questo attacco Fa male Ed è ripeto Di luce puro Ora È nella terza fase La terza fase È una delle più rotture Poiché fa Quest'attacco Allora Via No Accidenti No Ora Spamma gli attacchi Come Oio Ocio Ah E contate Sono al 50 Sono al 50 Ok Ve l'ho fatto vedere Adesso Gli manca Poca vita Ok E comunque si Sono tutte illusioni Quelle che crea Mamma mia È impossibile Da contrattaccare Cioè È impossibile Da fargli male Allora Ok Ripeto Se avete la scivolata Di fuoco Toglietela Perché Perderete Allora Forza Ok Meno male Forza Ah è vero Se ci sono le mine Lui fa come Terra North Ovvero le schiva E sono del tutto inutili Fino a un certo punto Ovviamente Allora Che attacco Fai Mamma mia Non sta fermo Un attimo Meno vita Più roba fa Ok No Ah Ohioi È davvero una rottura Questo coso E questo Mega flare Fa male Ok L'ho colpito Ora Molti hanno una tattica Molto Orribile Qual è Usare solo Zona minata Ring esplosivo E schivare O usare Scintilla Scintilla La posso accettare Ma ring esplosivo Assolutamente no Cioè Non c'è divertimento Però Scintilla Può essere utile Per le speedrun Molto utili Ora Se per favore No Non sta fermo Guardate qua Quanto si muove Ohioi 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 Grazie a tutti. Il capitolo perduto. Ora, non so perché è successo questa cosa, concorrente e critico, grazie. Ripeto, non so perché è successa questa cosa di schippare la scena in cui Koso va K.O., però alla fine non c'è una scena extra. È solamente che fai il C e poi si abbassa il volume. E poi c'è la scena successiva. Non so perché l'ha fatto, vabbè, però è andata come doveva andare. Ok, va bene. Comunque, livello di gioco, modalità critica, diario completo, diario trio, all'83%, nemici sconfitti 20.398, comando più usato, magnateca, 2.141 volte, brama magia, 339 volte, topolino 81 volte di usata per il farming di XP, 52 ore e 44 minuti e 0,3 secondi. Allora, salviamo in un altro file. Hai salvato i dati del gioco che hai completato. Potrebbero essere utili in futuro, perciò sarebbe meglio non cancellarli. E adesso abbiamo totalmente finito il gioco. Poiché hai finito tutte le storie, in modalità eroe o critica, vinci il trofeo del trio. E adesso abbiamo, ripeto, veneramente finito la storia. Poiché Acqua, dopo essere stata nel cimitero dei Keyblade, fa l'ultimo episodio, andando... Dov'è? Nel giardino radioso, e poi va nel reame dell'oscurità. E ora, i filmati. Abbiamo tutto. Ultimo episodio. Dove porta al cuore momenti oscuri, e un passaggio frammentario. Ora, Kingdom Hearts Vol. 2, eh, Birth by Sleep Vol. 2, era un progetto finito, in che senso? Era stato annullato, però poi è successo qualcosa, no? Che ovviamente non vedremo assolutamente ora. Comunque. Ehm, niente. Abbiamo finito di trofei, cosa mi manca, per essere sicuri? Allora, ripeto, questa è dell'arena. Questa è dei gelati, e questo mi sembra per aver ottenuto tutti i comandi del gioco. Per quello che ho controllato. Comunque. Trofeo del trio. È tipo, ha lo stesso design del trofeo una fine. Ma è più bello. Anzi, è tre volte più bello. Ora però. Abbiamo finito. Totalmente finito le storie. Quindi. Niente. Ripeto. Abbiamo finito. Nel prossimo episodio. Di Kingdom Hearts. Birth by Sleep. Final Mix. Inizieremo il dopostoria. E comunque, ripeto. Se andate qua, per fare il dopostoria, nella storia originale, dovete andare direttamente prima del boss finale. Quindi, sì. Per farlo, dovete, ripeto, per forza andare prima del boss finale. Infatti si vede anche la data di gioco che ho fatto. Haha. E, sì. Dovete fare questo. Per avere il file del finale, del final episode. E secret episode. Dovete farmare esperienza nel file principale. Poi, di acqua ovviamente. Sconfiggere il boss finale. Di nuovo. Affrontare il, il boss, il boss finale vero e proprio. E poi il boss segreto. Cioè, l'episodio segreto. Però davvero, ve l'assicuro. Occhi rossi è un avversario molto difficile. Anche se siete a livelli alti. Comunque, ripeto. Abbiamo finito. Vi invito a iscrivervi. A lasciare un mi piace o un non mi piace. E nel prossimo episodio. Dopostoria. Quindi. Alla prossima. Ciao.